Gianluca, alle parole devo dire che possiamo dare il conferimento del cittadino siciliano perché gioco il siciliano, vai benissimo, parla bellissimo il siciliano, i consiglieri che sono stati assieme Buongiorno, sogno Gianluca, Ginoble, sogno fruzzese, l'accento si può sentire ragazzi che onore fare tutta la scuola, che onore l'accento più maggiore mai sale, vero? mamma boitta, anna boitto, spassoio ma come parla? ma perché tu come parla? lei che è meglio, ma come è meglio? ma è il momento dove vi ringraziare io lo sono, scusate ma mi sono riuscito a prendere la siciliana sicuramente per me è bello se tornare in Sicilia è sempre un grande piacere poi abbiamo fatto dei concerti stupendi forse i più belli, indimenticabili come quelli a Taormina a luglio, vero? sarà bello tornare da che gente aveva dei tempi, prendiamo la tua gara di gente no, niente, che cosa volevo dire? sicuramente l'Abruzzo non ha la ricchezza che ha la Sicilia però ne siamo anche pochi a portare il nome della nostra regione nel mondo però, aspetta, che devo dire? mi sono scusato mi è venuta in mente una cosa no, perché scusate, allora, voi avete detto tutti che devo dire, ma ce l'hai parlato voi? siciliano che dice ha meglio parole che dove lo dice meglio tutti i giorni ok ma però ecco, vedi, mi hai fatto pensare una cosa il fatto sì, c'è la Sicilia, c'è l'Abruzzo, c'è la Campania ti capisci nei mondi? parla qui mano ci sono tante regioni però vedi, è forse sbagliato dire siamo italiani no, l'Abruzzo non è rinca tanto quanto la Sicilia però c'è una cosa che facciamo parte tutti dell'Italia e fa 70 anni quindi facciamo tutti parte dell'Italia se rinca la Sicilia è rinca l'Italia se rinca l'Abruzzo è rinca... basta grazie